Ciao ragazzuoli, benvenuti o ben ritornati qui sul mio canale, io sono Rick come sempre e siamo qui in un video, spero di farlo abbastanza breve, in cui vi faccio vedere un gioco che aspettavo da un po', aspettavo di avere da un po', e poi vi parlerò un attimo di alcune informazioni sul canale. Allora, il gioco, ho scoperto recentemente essere disponibile anche in formato fisico e sono impazzito e ho dovuto prenderlo assolutamente. Sto parlando di quella gran cavolata di Goat Simulator, ovvero il simulatore di Capra. Sì, sono impazzito perché pensavo ci fosse solo su Steam, si potesse comprare solo digitalmente, ma poi ho scoperto che invece da un mesetto, da metà maggio, un po' meno di un mesetto, o a metà aprile, non ricordo, comunque da poco è disponibile anche in formato retail. Allora, il prezzo è molto modico, stiamo parlando di 9,90€, quindi ragazzi, niente di trascendentale. È un gioco che ovviamente va preso per quello che è una presa in giro dei simulatori, in cui il team ha voluto apposta tenere tutti i bug proprio per fare un gioco demenziale, quindi è chiaro che va preso in questo senso qui. Guardiamo, infatti, Goat Simulator, il titolo, la capra che sembra sorridere in primo piano, ovviamente, un successo su Inter, beh, anche qua. Però, Peggy16, non pensavo. Dietro abbiamo l'argo alla capra distruttrice, c'era una volta una piccola capra che si annoiava terribilmente a stare nel greggio e un giorno decisi di partire dalla scoperta del mondo. Un'avventura magnificamente bizzarra tende un animaletto davvero speciale. Scopri l'animo caprino che c'è in te e accompagni la nostra pianta grana e belante in un viaggio per il mondo. Corre, saltare, leccare, persino cozzare le corna contro gli oggetti. Questa bestiolina riesce a fare di tutto. Lecca gli oggetti per spostarti da un posto all'altro eppure brandisci un'ascia con tutta la tua furia. Grazie a un pizzico di umorismo anticonformista, Goat Simulator offre un'esperienza di gioco davvero insolita. Caratteristiche. Trasformati in una capra. Comportati da capra. Corri, salta, lecca e usa le corna. Decine di situazioni divertenti. Mostra ai tuoi amici chi comanda il greggio. Beh, è già qui. Hanno voluto rendere leggermente un po' troppo serio per quello che è. Sembra che ci sia una storia o quant'altro. In teoria non credo che sia proprio un gioco alla cazzo. Ma vabbè. Andiamo a vedere. I requisiti minimi. Sistema operativo Windows XP, SP3 o vista SP2, Windows 7, Windows 8. Processore Intel Core 2 Duo, M di Atron X2 o processore equivalente a 2 GHz o superiore. Memoria 2 GB di RAM, grafica compatibile con DirectX 9C e SM3 VRAM da 512 MB. Quindi una memoria video RAM da 512 MB. DirectX 9, versione 9. Disco rigido 2 GB di spazio libero su disco fisso. Scheda audio compatibile con DirectX 9 a 16 bit. Per attivare il gioco è necessaria una connessione internet e un account Steam gratuito. Ok, bene. Direi che possiamo andare avanti. Quando ho comprato questo i ragazzi degli GameStop mi hanno preso per deficiente. E sono miei amici, quindi pensate un po'. Qui è quello che... Niente, ci troviamo dentro ovviamente il CD e... Vediamo, scusate... Ecco, c'è il codice di attivazione ovviamente. E niente, c'è solamente... C'è solamente... Ci sono solamente delle avvertenze dentro, non c'è nient'altro. Bene ragazzi, questo era più che altro un unboxing così per più che altro per farvi sapere, cosa che molti non sanno, appunto che questo gioco è disponibile proprio anche a retail. Non si può non solo prendere digitalmente ma anche a retail. Quindi ecco... Per quelli che fossero interessati alla cosa adesso lo sapete. Bene, andiamo avanti un attimo con quello che vi dicevo. Qua trema tutto, scusatemi. Chiedo perdono per il mal di mare causato. Dicevo, per quanto riguarda alcune informazioni sul canale. Mi scuso se le cose al momento del canale non stanno andando come vi avevo detto. Nel senso che mi rammarico del fatto che il canale non abbia ancora mostrato quei video che vi avevo detto. Che in questi giorni non ci siano dei video. Vi chiedo scusa ma purtroppo... In questi giorni mi si è fuso il modem. Quindi sono rimasto senza connessione. Sapete, tra i giorni di festa, lo studio e il lavoro non ho avuto molto tempo. Quindi sono riuscito solamente oggi a comprarmi un modem. Che oggi è giovedì. Quindi sto registrando questo video 5 minuti dopo aver sistemato il modem. Quindi, ragazzi, ho fatto il prima possibile, credetemi. Questa settimana dovevano uscire dei video. Doveva uscire un video di Wasadogs. Doveva uscire un video di Wolfenstein, visto che qualcuno me l'ha chiesto. Purtroppo, come vedete, il tempo è quello che è e non è ancora uscito niente. Me ne scuso ma ripeto, ragazzi. Non è stata colpa mia. Mi sono trovato un po' scoperto, diciamo così. E quindi questo è quanto. Questi pochi video, in questi giorni, questa assenza non è stata voluta. Comunque mi darò da fare. Vi ringrazio, come sempre, per il supporto grandissimo che mi date. Grazie agli iscritti. Grazie davvero a tutti. Siete fantastici per un canale alla cazzo come il mio. È davvero grande, gran cosa. Permettetemi il successo, perché comunque trovarsi a 200 e più iscritti, per me, che ero partito davvero come un canale per... Se 10 persone si fossero iscritte era già tanto, ecco, per le mie pretese iniziali. Quindi davvero, davvero è mano dal cielo. Vi ringrazio del supporto e ci vediamo al prossimo video, che arriverà presto. Ciao ragazzi. Grazie. Grazie.